E' tornato in aula il processo Case Popolari di Lecce, un'inchiesta che vede indagati, dirigenti ed ex amministratori del Comune di Lecce si stanno difendendo nel processo nato dall'inchiesta sull'assegnazione di case popolari in cambio di consenso elettorale. In aula, dinanzi al presidente Pietro Baffa, all'ateri giudici Luca Scuzzarella e Valeria Fedele, erano presenti gli ex assessori della Giunta Perrone Attilio Monosi e Luca Pasqualini e l'ex consigliere PD Antonio Torricelli. L'inchiesta all'origine vedeva 47 indagati, ma successivamente molte posizioni sono state stralciate. Nelle prime battute del processo si costituirono parte civile il Comune di Lecce, il Codacons Arca Sud, oltre ad alcuni assegnatari degli alloggi in questione. In aula, il PM Massimiliano Carducci ha rivolto diverse domande all'ingegnere Pucci e al funzionario comunale Stefano De Salvatore. Al centro, i rapporti avuti negli anni con il consigliere comunale Torricelli e le motivazioni di alcune indicazioni date da quest'ultimo in meito ad alcuni sopralluoghi effettuati presso alcune abitazioni di edilizia popolare. L'udienza è stata aggiornata. Il processo dovrebbe arrivare a sentenza entro il 2025.